Dal 4 all'8 giugno il campus di Unicam si trasformerà in un caleidoscopio di appuntamenti. Il bello di Unicam ha appunto seminari, convegni, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli e performance, mettendo in risalto tutto il meglio dell'Università di Camerino, dalla ricerca, la didattica, l'innovazione, al trasferimento tecnologico, la comunicazione scientifica fino alla Scuola di Studi Superiore Carlo Urbani. Sarà una settimana in cui noi ci confronteremo con quelle che sono le realtà importanti del nostro Paese e non solo. Tutto ciò che stiamo facendo in termini di didattica, di ricerca, di terza missione, coinvolgimento dei territori, comunicazione e comunicazione scientifica, lo confronteremo insieme a quello che le altre università, gli altri enti, gli altri centri di ricerca stanno già facendo. Vedremo qual è il loro modo di approcciare determinate tematiche e quello che è il nostro, sia in termini di didattica, sia in termini, quindi vedremo i nostri corsi di laurea, vedremo i nostri corsi di laurea eccellenti, cercheremo di capire come essi potranno migliorare, controlleremo le nostre attività di ricerca e le confronteremo con quelle che stanno facendo altri. Una settimana nel nome di Maria Grazia Capulli. È una persona che ha dato molto, che ci ha fatto capire che forse bisogna raccontare non solamente ciò che c'è di negativo, ma bisogna raccontare ciò che di positivo si sta facendo, come si sta facendo e partendo da ciò che si sta facendo come si può migliorare. Quindi il titolo, il bello di Unicam, perché siamo legati a Maria Grazia Capulli, siamo legati alla famiglia e tutta questa manifestazione avrà un corollario in una serata dove alla famiglia daremo un attestato di benemerenza per Maria Grazia. Come detto, tanti gli appuntamenti tra i quali segnaliamo anche quello con Buonasera Unicam Show dedicato all'attività di Unicam condotto tra il serio e il faceto dal giornalista di TV Marche, Maurizio Socci.